Ciao, Gossip News. Ciao, ciao, ciao. Io sono Patrizia, la moglie di Crodino, interpretata da Richito Ignazzi. E' una donna che è complice di quest'uomo, che nonostante tutte le vicissitudini rimane al suo fianco, comunque lo sostiene, insomma, tiene alto il nome dell'amore, quindi cerca di proteggere quest'amore. Come succede sempre più raramente? Come accadeva di più negli anni 60, 70, dove le donne erano più propense a stare accanto a un uomo? E perché oggi c'è meno questa propensione? C'è meno spirito di sacrificio, c'è meno voglia di complicità, c'è meno attenzione all'altra persona, ma si è concentrati molto di più su se stessi, quindi molto più egoismo, sui propri bisogni, sui propri interessi. Invece, secondo me, un uomo ha bisogno di una donna, la donna deve sostenere il proprio uomo, perché è comunque più forte, più riesce a ricoprire diversi ruoli nella vita, e quindi è giusto che accanto a un grande uomo ci sia anche una grande donna. Ti sacrifichi comunque per amore, l'amore prima di tutto. Sì, sì, questo sì, questa è una cosa che mi hanno insegnato la mia famiglia, quindi sì, prima di tutto l'amore. Visto nel fotocall che con Ricky Tognetti, insomma, scherzate tantissimo, come è stato il rapporto sul set? Beh, questa è stata la cosa più bella di questo film, sicuramente la compagnia, perché quando giri ovviamente cerchi di dare il massimo, non sai poi quello che viene fuori, no? Con tutto che hai stima del regista, ti aspetti grandi cose, non sai. Quindi la cosa bella è stata proprio questa grande famiglia, questa complicità, questa complicità con tutti i maschi, io in mezzo a tanti maschi, quindi è stato bello, sono stata coccolata. Quando si parla di commedia mi riconduce ai film degli anni Sessanta, al cinema degli anni Sessanta, quelle atmosfere vere di commedia, anche della commedia l'italiana, no? La commedia l'italiana, la commedia amara, insomma, quindi comunque mi porta indietro col tempo quando il cinema era veramente cinema, bello.